Ciao a tutti, mi chiamo Sottietto Massini, ho 15 anni e abito a Sogliana Rubicone in provincia di Forlice Sena. Ho già avuto esperienze teatrali tramite la scuola e la compagnia teatrale in cui recito. Adoro leggere, cantare, ballare e recitare, che sono tre arti attraverso cui riesco ad esprimermi, essendo una ragazza molto timida e riservata. Studio le discipline audiovisive, che sono cinema, televisione, radio e teatro, attraverso cui sperimento la lettura, la dizione e il movimento sul palcoscenico. E studio le varie tecniche del cinema e i vari movimenti di camera. Ho voluto fare questo video perché studiando queste cose vorrei provare da vicino questa esperienza. Grazie a tutti, ciao!